Ciao e buonasera, oggi è davvero tardissimo e quindi facciamo un video davvero molto veloce. E come riesco a fare io tutti questi video tutti i giorni? Cioè mi chiede molta gente, molti miei amici, come riesci a fare tutti questi video? Io ce la faccio perché organizzo, organizzo tutte le mie giornate, tutte le cose che faccio e grazie a ciò riesco a fare un sacco di cose. Infatti oggi per esempio ho fatto 5 ore di scuola, 2 ore di inglese, 1 ora di piano, 2 ore di estate ragazzi, di formazione per gli animatori e questo video. In tutto questo sono riuscito anche a fare i compiti per domani e a sapere cosa voglio chiedere al prof di fisica domani che non mi è ancora chiaro. Quindi grazie all'organizzazione io oggi sono riuscito a fare una giornata da leone insomma e ciò lo consiglio anche a voi, ovvero organizzare le giornate per togliere ogni stress e ansia. Mi sta aiutando un sacco a me e credo che aiuterebbe un sacco molta gente che conosco. Insomma, organizzatevi le giornate. Il secondo punto di oggi è come togliere le cattive abitudini, come togliere magari delle abitudini che non ti stanno aiutando, che ti stanno un po' danneggiando. E c'è più una domanda questa, ma per me ci sono due modi. Il primo è di colpo, sarà doloroso però, perché è un'abitudine appunto, un'abitudine è qualcosa che si è instaurato in te nel tempo e di colpo è doloroso. Però magari a volte può essere l'unica strada. O se no gradualmente può essere invece la risposta giusta a volte, come per esempio quando ti imponi di andare a letto più presto, ovvero dalle due di notte per esempio, a luna e mezza, a luna, a mezzanotte e mezza, a mezzanotte, ecco. E così via insomma. E ok, detto tutto ciò, oggi cosa ho fatto? Oggi ho fatto davvero pochissimi compiti, però ho fatto quel poco che volevo fare. Quindi, per esempio, se voi avete poco tempo, io vi consiglio di fare quel poco che è più importante. Cioè, non concentrarsi sulle cavolatine. Cioè, è una cosa che deve essere chiara a molta gente, però io credo che molta gente non ce l'abbia chiara. Cioè, non concentrarci sulle cagatine. Andare a fare le cose fondamentali. Come per esempio per me oggi la cosa fondamentale è stata farmi delle domande che domani voglio chiedere al prof di fisica. Ecco, e così via. E va bene, per oggi è tutto, a domani. Ciao, buonanotte.